Musica Seconda di campionato qui ai microfoni di Vivicentro Formisano Una prestazione davvero importante per la Virtus Stabia che riconferma la voglia di vincere Qual è il segreto per questa cattiveria agonistica che state veramente trasmettendo sul Prato Verde? Innanzitutto buonasera a tutti Tutti parlano di gruppo, il gruppo di qua e il gruppo di là Però davvero quest'anno siamo partiti alla grande perché siamo insieme già dal 31 luglio Stiamo veramente amalgamando sia come amicizia fuori dal campo sia in campo Ci stiamo capendo sempre di più giorno dopo giorno Penso che questo sia il segreto Quanto è valso quindi il precampionato, la preparazione Ma quanto vale soprattutto l'essere coesi come persone e poi come calciatori? Penso che più di un'intervista la società abbia specificato proprio questo Che hanno scelto prima gli uomini e poi i calciatori Penso che lo stiamo dimostrando che siamo prima uomini e poi calciatori Stiamo sempre attenti sia agli allenamenti che fuori dal campo quando dobbiamo giocare Andiamo a dormire presto Questi sono tutti i segreti che piano piano ci fanno crescere Grazie mille e in bocca al lupo per la prossima Grazie mille e in bocca al lupo per la prossima